Cari ragazzi dovete sapere che gli ultimi giorni qua nella Magione sono stati particolarmente infernali e tenebrosi C'è stata una tempesta di fulmini e credo che fuori sia accaduto qualcosa di davvero molto strano Se volete altri episodi continuate a sostenere la serie, arriviamo a 30.000 mi piace, confido in voi Ma soprattutto tranquilli, non ci andremo oggi ma presto cercheremo la fortezza del land Mi raccomando ragazzi, sostenetela più non posso, io vi auguro una buona visione Bene ragazzi, qui Stepney bentornati nel diciottesimo episodio della serie principale di Minecraft È notte fonda e vi ho detto quella cosa nella intro perché poco fa un fulmine ha colpito qualcosa E sono nati dei cavalli scheletrici con degli scheletri a cavallo Non voglio morire qua, vi prego in tanti di voi avete detto Step non devi assolutamente trasferirti lì Era una pessima idea, quel posto è infestato, avevate ragione, guardate, guardate cosa c'è qua Ma che mostro è? Ma di cosa si tratta? Sentite un po', allora io non voglio uccidervi perché mi dispiacerebbe troppo ma non voglio neanche morire da voi Eccole qua le due targhette, sto morendo, mi stanno uccidendo C'erano tante cose che avrei dovuto mostrarvi quest'oggi e non di certo la mia morte Ma non si può mettere una porta qua? Oh, la devi smettere, devi sul... Madonna Non si entra in casa senza togliersi le scarpe Madonna, neanche gli zoccoli vanno bene Oh mio Dio, no aiuto ragazzi Allora, dobbiamo andare un attimo sul tetto Io non ho abbastanza lingotti di iron per fare ciò che vorrei Ovvero una anvil con cui creare poi le targhette con il nome adeguato per salvare questi mob Non li voglio uccidere perché sono un Dio buono Voglio semplicemente tenerli in vita Volevo farvi vedere, annaggia a me, perché non ho messo le torce qua sopra Che ho creato, vista la nostalgia dell'estate, di tutti i bellissimi posti che ci sono in Grecia Una piscina sul terrazzo Perché ho detto che avremmo avuto una casa sull'acqua Ma non ho mai detto che non avremmo avuto dell'acqua sulla casa Mi torna il discorso? Ecco appunto L'ho fatta qua sul tetto in modo tale da potermi godere la mia residenza Mi sono scordato di metterci le torce Sono finiti i cavallini Non mi dire, non sono despounati Io volevo tenerne uno da parte Avete detto che sotto al tetto ci dovrebbero essere delle chest con del loot Ci dovrebbe essere una zona con delle chest Eccole qua Più semplice del previsto Cos'è che abbiamo? Un'altra name tag Molto interessante Dei cd musicali completamente inutili Del coal Ho bisogno di iron Uh, la lead Questa qui è buona, la corticella per portare con noi dei mostriciattoli qui a casa Come avete detto Step finalmente hai una casa e dormi fuori casa Ho una casa ma non ci sono i letti Ce n'è ancora uno C'è ancora un cavaliere della morte Ok Io non voglio farti despounare Come possiamo fare? Non sono despounati ma presto questa cosa accadrà E noi non vogliamo che accada Dove caspita è il mio ferro? Non ne ho più Perché non posso squagliare le porte e ritrasformarle in ferro? No, 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 ti prego Ti prego Il mio letto No, l'ha rotto L'ha rotto No, io ti odio Io ti odio con tutto il cuore Va bene Va bene Ci arrangiamo Non è un problema Da quando ho iniziato la serie CTM non c'è più un secondo di calma Sto letteralmente perdendo la testa Fai sto letto Tiè E piazzalo qua nella sala principale Per adesso dormiamo sul tavolo Mi piace E non è notte E non è notte ovviamente Però mi ha settato lo spawn Se quei cavallini con gli scheletri sopra prendono la luce del sole Muoiono Noi non vogliamo assolutamente che questa cosa accada Devo andare in grotta L'unico modo è andare giù per forza Quindi recuperiamo della legna Voi direte perché smantelli la casa se sei davanti a una foresta Ragazzi Fatemi fare Hola amico Hola no creeper no Tu bono se mi rovini il grano io ti metto le mani addosso Te le metto lo stesso Io ti ammazzo Io ti ucciderò pure a te No il mio grano Il mio grano Raga questa qua che sembra un po' una tomba Inquietantissima sta cosa Eila Ma tu Tu che c'è No 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 Ancora voi Ma quanti sono Oh mio dio La speranza in realtà è che continuino a nascere Per quanto siano fastidiosi Comunque sono una buona risorsa Che continua a generarmi smeraldi Potrei farlo partire proprio da qua Raga non ho cibo Come faccio a sopravvivere in grotta senza cibo Siamo in una casa che era completamente nuova L'abbiamo già ridotta a una catapecchia Sono nella stamberga strillante ragazzi Molto semplicemente Ok Is not a problem Intanto liberiamo l'inventario Qualche panino sarà sufficiente Comunque non è che dobbiamo fare una spedizione di ore e ore e ore La magione di Stepney diventerà uno zoo A tutti gli effetti Cosa ci faccio con uno zoo Non lo so Mi ricordo a casa aveva una farm gigantesca E l'ho abbandonata per venire qui In mezzo ai mostriciattoli Perché tutte le pessime idee vengono al sottoscritto Bella domanda Ma lo scheletro Scusatemi Che fine ha fatto Eccolo è qua è qua Non scompare Non scompare Mi avete detto che spesso Sotto alla magione Capita di trovare direttamente degli spawner di mob Io spero che sia il nostro caso Lo spero vivamente anche perché ci farebbe particolarmente comodo Speriamo di trovare il prima possibile del ferro Una volta trovato il ferro noi siamo tranquilli E non vogliamo fare altro per oggi Poi sistemeremo la spedizione per andare nel land Con calma Devo rifarmi una stanza degli incantesimi E devo potenziare tutto Vai che bello del ferro In teoria ci servono un bel po' di blocchi 27 solo per la parte superiore 31 in totale se non sbaglio Fermi tutti C'è dell'acqua Ciao Ehi No 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 Oh Fermi No non ci credo Non è vero Oh mio dio Oh mio Pfff A caso Chiudi qua Chiudi qua step Si stanno sparando fra di loro I ignobili stupidi Avevate ragione Quanto adoro quando avete ragione Perché voi dovete sapere Che anche se non rispondo ai commenti O pochissimi insomma Li leggo tutti e io ho letto questa cosa E lo sapevo che l'avremmo trovato Me lo sentivo Me lo andiamo Sì 16 più 11 27 Non ci bastano Ne dobbiamo trovare ancora un po' Teoricamente questo spawner di scheletri È molto più alto di quello che avevamo trovato a casa Il che vuol dire che potremo sfruttarlo Facendo anche il danno da caduta a questi stupidi disgraziati Altra name tag E ne abbiamo 4 adesso Altro grano E questi sono pronti 16 più 11 27 Ne mancano 4 Raga Altri 4 pezzettini di ferro E sarà fatta La missione sarà compiuta Una missione molto semplice Ciao Ho trovato il ferro Aspetta che ti faccio fuori E no E lasciatemi in pace È una missione gentile Non voglio farvi del male Siete voi che volete che io vi faccia del male Questa è la differenza Quindi Facciamo semplicemente una cosa per volta La grotta sembra molto grossa Va bene Non abbandoniamo questo piano Lo lasciamo un attimo in sospeso Vado su Creo le name tag Anzi potrei farlo già qua sotto Ma basta Secondo me Alla fine di tutto La somma sarà positiva E sarà stato fighissimo Essersi trasferiti Alla magione Quindi vi ringrazio anche solo Per avermi spronato nel farlo 1 2 3 blocchettini 4 1 2 3 1 2 3 4 La Envil è pronta Per adesso la piazzi qua Prendiamo il primo Vediamo com'era la scritta Johnny Allora dovrebbe essere J O H N Y Johnny E ce l'abbiamo Poi direi di fare anche I cavalieri della tavola rotonda Com'è che si chiamavano Madonna non pensavo fossero Così tanti Ser Elenil Bianco Ser Balen Ser Bedivere Ser Bor Ser Breunor Ser Cador Ser Cadorc Allora uno mi piace Lo chiamiamo Percival Che mi ricorda Harry Potter Perfetto Poi ne facciamo un altro E lo chiamiamo Tor Ser Tor Si il Tor Ganzo E l'ultimo lo chiamiamo Lionel A caso Ser Lionel No vabbè l'ancillotto Come fai a non metterlo Perché il punto Perché ho messo il punto a Ser Non lo so Sono scemo Non perderemo la cognizione Di dove sia la grotta Quindi tranquilli Siamo vicinissimi a casa Allora il primo è Ser Lancillotto Che dovrebbe essere al piano di sopra Ricordiamoci che dobbiamo chiuderlo da qualche parte Se no lui prende e se ne va Ora in poi Ti nomino Cavaliere No te non sei il cavaliere Ti nomino Johnny E basta Sei felice? Mi picchia adesso? O è diventato buono? Non ci vado lì dentro A prendermi le mazzate Poi lui va a giro per la base Figuriamoci Ehi la Sei ancora qua No No Si 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 è qua Vieni vieni Seguimi 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 Tua mamma o sicino Vieni qui Guarda Questa è camera tua La faccio diventare camera tua Ser Lancillotto C'hai anche il bagno privato Doresti ringraziarmi Invece di tirarmi le frecce Eccolo Preso Ser Lancillotto Ma Ma Raga è sparito il nome È sparito Gli ho dato il nome ma è sparito Perché non c'è scritto Ser Lancillotto sopra? Non capisco Ce n'è uno che si chiama Ser Lionel Il Valoroso Quello a destra Non ha più lo scheletro sopra Mi importa un po' Io voglio solo il cavallo Che bello che è Ma si può cavalcare? Raga posso cavalcarlo Secondo voi? Tu sarai Percival Va bene Poi torno eh Tranquillo Ce n'era un altro Eccolo qui Ciao Ser Thor Ser Thor Ser Percival Mi raccomando Non combini guai eh Devo scoprire se posso metterti un'armatura Perché se posso mettertela è leggendario Vieni ciccio Oh So salito sopra No 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 Aspetta 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 Prima ti devo Ti devo dare questo Se funziona È la vita È la vita Oh my god Ragazzi posso cavalcare il cavallo scheletrico È leggendario tutto ciò Bellissimo Non posso mettergliela Ma no Che peccato Sarebbe fighissimo L'armatura di diamante Però mi ricorda un botto Tipo le mount Di world of warcraft Questa cosa Senti questa Sarà la tua stalla Se per te va bene Ser Percival È un onore servirla Dormiamo Finalmente Strane presenze Si aggirano Che la magione Ma Stepney Ha preso il controllo Ditemi vi prego Che ho un'altra sella A disposizione A casa mia So di per certo Di averla Ne ho un'altra Sì Andiamo a prendere anche l'altro Ti piazzo questo E abbiamo il controllo anche di Sir Thor Ti porto al sicuro che qua fuori Non è certo un posto per cavalli Ti piace la prigione? Tu sarai il protettore Della prigione Ok? Lo so Non ci sono prigionieri Adesso il tuo lavoro potrebbe sembrarti momentaneamente inutile Ma arriveranno Johnny Johnny è il prossimo Che verrà incatenato In una di queste stanze Direi Che possiamo tornare A dare un'occhiata Alla miniera 12 panini Sì vabbè Non è che dobbiamo fare una spedizione Chissà quanto enorme Voglio solo capire Se c'è qualcos'altro Di interessante Io credo che vivere Nella magione Sia figo Non solo perché la casa è già fatta E non devi farla E Steppi non sei mai in grado di fare una casa Dettagli Ma perché comunque Boh Un posto fatto da altri Giga enorme Ci piace Bene Qua il collegamento ce l'abbiamo Torniamo un attimo indietro da questa parte Che ho visto un botto di roba interessante Salve Sono stati fortunati anche a trovare un sacco di name tag Perché non era scontato eh Precise per i cavalieri Anche se in teoria ce n'è un altro di scheletro Io quando ho visto il fulmine colpire il cavallo Ce n'erano quattro in totale E adesso ne abbiamo solamente tre Cosa vuoi te? No bello mio Non hai capito niente Non tieni sentendido E no Esplodi vai Esplodi Raff Così Ci liberi della tua inutilità No Tu no Mannaggia la miseria Mannaggia Ciao bello Mi hai mancato Sei scemo Sei scemo Tu via Tu via Stai antipatico Tu mori per primo Tu morirai per secondo Oh my god Mezzo cuore Io direi che Potremmo concludere il video Prima di combinare un guaio Che possa rovinare La purezza Della registrazione Abbiamo catturato dei cavalieri Abbiamo trovato un dungeon sotterraneo Con tanto di spawner Secondo me continua Ed è proprio questo Il prossimo episodio Nel frattempo Mi mangio dei panini Voi spolliciate Pio non posso Voglio una marea di commenti Per il prossimo appuntamento Commentare e sguire attivate la campanellina Noi ci vediamo nei prossimi Nel prossimo video Grazie mille per il supporto Qua sempre tutto Buone Poi se volete Penso di sì Spolliciate tanto Perché rifaremo Un doppio appuntamento Di minecraft Magari Proprio il giorno In cui andremo Alla ricerca Della magione Dell'end Del portale Dell'end Del drago Dell'end Quella roba lì L'avete capito Basta Me ne vado Proprio appuntamento Proprio appuntamento